Sono venuta qui per decidere cosa fare un po' del mio futuro, visto che sono all'ultimo anno del liceo, quindi devo decidere e poi anche perché mi sono interessata a diverse discipline, a diverse università che non si possono trovare tutti i giorni negli Open Day. Sto pensando di arruarli o nell'aviazione come medico oppure di scegliere una facoltà civile, semplicemente, ancora c'è da decidere. L'idea principale per partire è di fare l'FP1 che sarebbe il corso per un anno e poi vedrò se fare la scuola ufficiali e quindi di continuare la carriera oppure fermarmi perché magari ci sta che le idee sono alcune, me le immagino in un modo e invece totalmente in un altro. Quindi proviamo questa esperienza e decidiamo. Ho scelto di venire allo stand della difesa perché mi piacerebbe entrare a far parte del ruolo nei piloti e niente mi ha costretto a fare questa scelta ma è semplicemente la forza di volerlo, la volontà di entrare a far parte di qualcosa che può essere utile per gli altri e per un'esperienza personale. Vengo da Pucecchio e mi sono fermata allo stand della Marina Militare perché sono interessata e mi piacerebbe fare l'ufficiale non solo della Marina ma magari entrare o nei carabinieri o nell'aeronautica. Ho scelto l'esercito perché è comunque una tradizione di famiglia, fa parte delle forze armate o comunque delle forze dell'ordine e volevo intraprendere la carriera militare o nei carabinieri o nell'esercito e quindi ho cercato delle informazioni in merito. Mi sono fermato qui allo stand dei carabinieri per prendere delle informazioni per conto di un'amica. Io ho già preso delle informazioni riguardo ai concorsi per siti ufficiali e per l'esercito. Allora vengo da Firenze e obiettivamente sono in quinta liceo e sto valutando varie possibilità tra cui sia quella di arruolarmi nella carriera militare come militare sia nell'aeronautica perché sono anche modi di vivere che possono cambiare e a me personalmente interessano anche in quanto ti forniscono una formazione che ritengo diciamo di livello e per cui conseguentemente sono interessato a farne parte. Siamo venuti qua per fare orientamento perché noi siamo della classe quarta e iniziamo orientamento un anno prima perché almeno abbiamo già più o meno le idee chiare. Stiamo girando tutti i vari stand per capire le diverse opportunità che offrono e per appunto avere una migliore idea sul nostro futuro. Sto facendo Mente Locale perché sono suo compagno di classe e anch'io sono in quarta. Abbiamo iniziato un anno prima in modo almeno proprio per tastare il terreno e vedere quale delle università a disposizione possiamo affrontare. Io personalmente non so ancora quale sceglierò perché non ho ancora un orientamento proprio... infatti sto sentendo molte cose anche molto diverse tra loro. Quarta del liceo linguistico di Pontremoli, Alessandro Malaspino. Sono venuto qui appunto perché mi volevo informare sulla forza militare italiana e di che si trattava, degli esami, dei concorsi, tutto quello che c'era. Grazie. 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 Grazie a tutti.